Saranno tre le sedi di seggio e sezione elettorale per le prossime elezioni provinciali di domenica 15 dicembre che serviranno per rinnovare sia la carica di Presidente della provincia sia dei 12 componenti del Consiglio Provinciale. Si voterà a Palazzo Ducale, a Lucca, all'Unione dei Comuni della Garfaniana, a Castelnuovo e a Villa Argentina, a Viareggio. La decisione di allestire tre seggi elettorali è stata presa per agevolare le partecipazioni al voto dei sindaci e consiglieri comunali delle tre macro aree Lucca e Piana, Mediavalle del Cerchio e Garfagnana e Versilia. In sostanza, al seggio principale di Palazzo Ducale voteranno sindaci e consiglieri comunali dei comuni di Lucca, Alto Pascio, Bagni di Lucca, Borgo, Ammozzano, Capannori, Correglia, Monte Carlo, Pescaglia, Porcari e Villa Basilica. Alla sede dell'Unione dei Comuni della Garfagnana dovranno recarsi per votare gli amministratori dei comuni di Barga, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo, Castiglione, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandola, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Cerchio, Pieve Fosciana, San Romano, Sillano, Giuncugnano, Valli di Sotto e Villa Collemandina. Alla sezione di Villa Argentina, infine, voteranno i rappresentanti dei comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Petrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8 alle 20 di domenica 15 dicembre.